Non ce l'ho con gli studenti universitari. Parlo dell'Università La Sapienza, non voglio parlare dei tafferugli, delle botte, dei feriti, di quello che è successo con la polizia, se ne parla già a livello politico, polemico, sociale, costituzionale. Mi interessa parlare e ragionare del Senato Accademico e parlo anche a studenti universitari. Il Senato Accademico, lo sapete o lo sappiamo, partecipa attivamente al governo dell'Università. È composto dal Rettore, dai docenti, dai direttori di Dipartimento, da una rappresentanza degli studenti su base elettiva. Ora, il Senato Accademico ha potere in materia di cerimoniale, non ci interessa, in materia consultiva, non ci interessa, in materia decisionale. Ora, se il Senato Accademico ha deciso, a votazione, di mantenere rapporti con le università israeliane, a prescindere dalle richieste di boicottaggio, conflitto, Gaza, Hamas, Israele, questione palestinese, ma se è stata assunta una decisione, rispettiamo questa decisione, contrastiamo questa decisione con quelli che sono i metodi e le regole che ci competono. Non possiamo pensare di entrare nel Senato Accademico e fare casino. Allora lo faremmo ogni volta che il governo promulga una legge che non ci piace, che pur è stata votata e approvata, e andiamo ancora lì a fare casino. Il casino non serve a nulla. Serve il rispetto delle regole, serve il contraddittorio, serve la protesta, ma ribadisco entro questi limiti. Se no ritorniamo alle botte, alla polizia, agli studenti, ai manganelli, ai feriti e non ne usciamo più.